Che si dice? A proposito di regole, dovrà vedere un altro terapeuta. È il protocollo dopo tali eventi. Non serve spiegare. Lei sa quanto le sia riconoscente. Quello che ha fatto non è possibile esprimerlo a parole. Ed è esattamente questo il problema. Tensione sessuale è irrisolta. Marta ha dei problemi simili. No. È la dinamica del nostro rapporto. I problemi che affrontiamo, impulsività, mancanza di giudizio, sono i motivi per cui sono viva. Non so quanto io la possa aiutare. ma ha ancora bisogno di aiuto. Quindi... Quindi... Grazie. Di tutto. Grazie a lei, Rix. Grazie.